Allora siamo qua, in questa stagione 2014, molto difficile per l'apicoltura, per il tempo meteorologico, però qualcosa siamo riusciti a fare, doveva tutti i giorni, ma le mie api ne sono riuscite, qualche bella giornata, sono riuscite a raccogliere, come vedete, ecco questo, il miele, il bellino, con una bella cera nuova, bianca, ecco qua, primo anno di apicoltore, e voilà, ah, con male, è piovuto 25 giorni su 30, mese di luglio, eppure le mie apine hanno lavorato, guarda, che senti? che senti? che senti? guarda che vediamo qua, vediamo qua, viena di lamponi, siamo qua vicino a 2000 lamponi, e allora, viena di lamponi, ebbene, viena di lamponi, ebbene, viena di lamponi, ebbene, viena di lamponi, andati appesta, che senti? C'è un po' Questo è un po' da costruire